facciamo finta di trovarci nella piazza centrale di villeneuve la domanda è questa nella piazza centrale di villeneuve c'è un campanile senza l'orologio oppure una meridiana davvero davvero precisa pensaci un momento ti do due secondi per pensare hai deciso ok ai 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 da come vedi da questa immagine il campanile all'orologio quindi la risposta esatta questa volta era una meridiana con tavola d'equazione ma che cos'è una tavola d'equazione beh questa tavola serve per calcolare in modo molto preciso anche i minuti